Ciao ragazzi, qui è Rainbow Gamer e oggi siamo su Life is Strange Ragazzi, io questa serie non avevo per niente intenzione di portarla sul canale, ragazzi Perché dico questo? Il gioco è un gioco, questo qua non è un gioco come tutti gli altri È un gioco da capire, ragazzi È un gioco veramente lentissimo, ma alla fine ti piacerà veramente lentissimo Ragazzi, quando però ho riconosciuto che stavo facendo alla fine Life is Strange 2 E io ho visto un po' gli altri video e l'afficente è contenuto tantissimo Ho detto che dobbiamo portarlo, dobbiamo portarlo Quindi oggi siamo qui, ragazzi Io non so se portarvi tutto il gioco, ragazzi Perché, ce l'ho inizionato alla fine del coraggio Perché ragazzi, sono tantissimi capitoli Tanti Sono dei capitoli Praticamente, ragazzi Non è solo un capitolo, ragazzi Io ho cercato di portarvi solo un capitolo Perché mi sa che dal 23 anno fino al 23 agosto Ragazzi, non ce la facciamo Però ragazzi, io vi dico Che proverò almeno a portarvi Con due video al giorno E almeno ho riuscito a portarvi il primo capitolo sul canale Ragazzi Quindi solo questo Come potete vedere ragazzi Se mettiamo in option Non ci fa saltare Infatti i filmati Non si possono saltare Comunque raga Scusate E se la sera da tanto Io non portavo i video Ma Non tanto di tanto E il mio giosti Che figata Che figata Ragazzi Io proverò a portarvi due episodi Al giorno di questo gioco Ma Non vi prometto Che ce la riuscirò a fare Ok Siamo arrivati a una campanichina E non so perché Cioè ragazzi Sotto Sotto il video Tutti quanti Che scrivono Hashtag Hashtag Panchina vita Ragazzi Tutti panchina vita Hashtag panchina vita Perché la panchina È la vita Invece Motoscafo brutto Oddio Ragazzi Ma pure lei non guarda Tanto qualcuno telefona E metto Devo mettere Forza in pausa E vi salto da parte Ok ragazzi Era Simo07 Che stava qua Alla porta Saluta Ciao E quindi Allora Stavamo qui Guardiamo Qua Non è un selfie Ma penso che non sia un selfie Questo Ok Facciamoci un selfie Fate un selfie Facciamoci un bel selfie Ma poi perché un selfie Durante la lezione Non ha senso Ok Ok Perfetto Ma io volevo vedere altre cose Che gioco è? È Life is Strange Lui raga non lo conosce però Si domanda sempre Che gioco è? Che gioco è? Che gioco è? In realtà non farlo perché Non voglio farvi sentire tutto Quanto il gioco E farvelo capire L'età Lo stai chiedendo a me Lo sapevo Vabbè Lo sapevo Cioè È ovvio no? Sì 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 Lei sa tutto Ragazzi Lei sa tutto Eh Una spiga di merda Comunque No raga Ovviamente scherzo Ovviamente ragazzi Si scherza Non ho niente Giuro Magari siamo a nuovo Allora Leggiamo Il cuore di Nayan Cat Allora Il cuore di Nayan Cat E da nero Ok certo Usciamo La camparella Dobbiamo andare via Hey Proffa Raga scusate L'inquadratura No TZY L-O E NO SCI SANTO ACTI MAX TI anya c'è un tablet quel tablet ragazzi è falso ma sono della campanella devo proprio ragazzi il bello del gioco è che lo definisce lo potete resti anche finire al cento per cento tipo di fai tutto il primo capitolo con altre scelte secondo capitolo con l'altro è un casino tutta drogata lei con gli occhi così tutta squalizzata no ciao non voglio non voglio più sentirvi andiamo alla porta ciao raga 7 esiste un gioco non so se è un gioco tutto film tutto film non mangio tanto è un cazzo c'è è finito il gioco te immagini beh sei finito ma non può finire immagini finito te immagini la musica sottofondo non è più stretta è iniziato non 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 è iniziato no non è quello dei maschi no non è iniziato no la canzone mi stava proprio rilassata ok allora voglio vedermi oddio oddio aspetta voglio mettere voglio mettere voglio mettere sì no vabbè specchio usiamo dai perché non ti metti al centro c'è la faccia piccolissima ok entriamo in un bagno perché non mi faccio non mi fanno fare la doccia ok il lavandino sei minuti vabbè raga a sto punto ci vediamo va bene ragazzi io direi che per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace guardandosi una farfalla che vola e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao 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 ciao